Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Manuela e questo è Facile e Veloce Opinioni. Una bellissima novità per voi, a parte che vi mostrerò le novità di Gennaro questa volta in alcune clip, vi volevo comunicare, ma non mi verrà corrisposto niente a livello economico, ma comunque è stato proposto per chi si presenta, a nome del mio canale, Facile e Veloce Opinioni, la possibilità di avere nel Gennaro Gruppo M, Via Principe Eugenio, proprio la possibilità di avere un 10% di sconto sugli acquisti di tutti i suoi stock. E' pochino, però considerate che ha dei prezzi convenientissimi. Quindi io direi una cosa da non lasciarvi scappare per chi è al centro, e magari anche la possibilità di incontrarci, perché no? Detto questo, vi lascio alle clip dei suoi nuovi arrivi, mostrati nel suo negozio. Un bacio, ciao! 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 Grazie a tutti.